tu prima la cabeza a la derecha no a la schienza bravo e vai di là che comincia a uscire dal suo asso di combattimento si contraattacca Stringi la mano destra Stringi la mano destra Bordi Destro sinistro Piede fuori Fuori Vai a destra Dai Dai Metti quel piede Non lo passare da te Metti quel piede destro Bordi Dai Bordi Anche il calcio destro e il calcio sinistro andando a destra Dai Ecco poi Stringi da sotto Stringi da sotto Stringi da sotto Passi Stringi da sotto Stringi da sotto dai che manca un minuto ah no contante medus alzare la mano a sinistra eccoci eccoci 100 secondi velocitiamo che siete stanchi velocitiamo Grazie.